Ragazzi noi stiamo editando il vlog E' molto tardi E' molto tardi perchè sono andata a dormire veramente stamattina E Bush ci ha portato il caffè Perché stavamo qui a fare il vlog Quindi ha detto dai ragazzi vado a prendere il caffè E lei si è presa due cheeseburger e le patatine Non lo so ragazzi Comunque si, noi continuiamo così riusciamo a farlo uscire forse alle due e mezzo Non credo Perché non è un quarto Dai riusciamoci Noi stiamo per girare dei video forse Forse riusciremo a girare dei video Sono già le 5 e mezza praticamente Sono due ore che siamo qui Cerchiamo di capire cosa fare E abbiamo passato tutto il giorno dentro la camera praticamente Ok ladies now let's get information Io sono andato che c'ho sempre più occhiaie Perchè se dormissi un po' di più Va bene ragazzi Siamo andate a dormire alle 7 di mattina Scusate Per colpa vostra A nostra Guarda Guarda Io lascio perdere la situazione Comunque Niente adesso proviamo a girare questi video Provate a indovinare Ovviamente sarà un video sul nostro canale Un video sul canale di Muriela Un video sul canale di Bush Si spera Si spera ovviamente Cioè probabilmente forse Se dovessero uscire Secondo voi che video saranno? Eh? Tanto Vabbè ciao Fede ci stiamo riuscendo? Ci stiamo riuscendo Mi manca uno ragazzi Non ciò so credere Manca un video Sono venuti troppo carini Stiamo facendo un muro Sono venuti molto molto carini Sono venuti molto carini Io ho paura Perché? C'è il disagio C'è il disagio Ma perché ho sempre le pompe fuori? Guardate La mia faccia Cioè così Aspetta ferma No veramente Cioè guardate Che è successo? No 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 Fermate quel telefono La mia faccia così È grande come la faccia di Bella La mia faccia di Bocca giù È grande come la faccia di Bella Ragazzi ho una faccia piccola O c'è dove c'è Della faccia grande? Enorme La tua è piccola Si Si Perché se stai chiedendo È Bushera Allora sono arruffata Per la situazione Sono arruffata Guardate Eh lo scusate Fede Si Cosa sto per fare? Sto per far vedere La cosa che aspettavate tutti Ok Cioè almeno io l'aspettavo Poi non lo so Vado Vai Raga Raga L'aspettate Non è manco finita qui Guardate Oh mio dio Come si fa? Tra l'altro è bellissimo Quel plettro Non si sa nulla Eccolo Non si sa nulla Ha scritto Ted Ragazzi questa cosa Veramente faccio un quadro Faccio un quadro Si abbiamo deciso Che ragazzo Con Il tipo della sicurezza Durante il concerto Viene da noi E ci dà queste robe Matto Il plettro è usato Cioè ci sono tipo i graffietti Ci sono i graffietti Delle sue Si Cioè ragazzi È troppo carino però Vero? Sacco Anche con questo raga L'hanno toccato Paglia No ti prego Quindi io farò un quadro Con queste cose qui Si Stiamo provando di andare a cena Però ovviamente Presto E guardate Madonna Non è l'ottima Perché è Brandon No No Mamma mia Mamma mia Ma no Ma questa ragazza Non di qua stiamo parlando Mi avevo portato un'isbelle Stiamo mandando al cinese Barra giapponese Barra giapponese Sushi E io ho un po' paura Perché non mi piacciono Queste cose da mangiare Non mi provate Io non posso mangiare il sushi Quindi è veramente una cosa molto triste Mi sta sudando la mano Per quanto ho paura presa Madonna mia No vabbè Comunque Suggeriteci qua nei commenti Che cosa posso mangiare al cinese La prossima volta La prossima volta E come fai Stasera ci andiamo Stasera No ragazzi Andate a casa Montate il video Perché ho bisogno Io non posso mangiare il sushi Perché ci sta Pesce Salmone Ci sta troppa estamina Prendi il sushi come il mio Non posso mangiare nemmeno l'avocado Sei zitta C'è quella vegan L'avocado c'è sempre Ragazzi sono depressa Cioè io dovrò vedere tutti quanti Mangiare il sushi E io dovrò mangiare qualcos'altro Cioè questa storia Questa non è tortura No non ci arriva più Fa caldo Madonna Mio dio Mio dio Mio dio Mio dio Cioè sera Basta caldo Mollaci Mollaci Un po' di fresco Ma ci compara il nostro Mio dio Mio dio Ale auguri È una ricorrenza che solitamente non festeggia Perché ovviamente essendo nato alle pendici superiori del fiume Pono Ma sei zitto Cioè prenditi gli auguri e basta No 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 Mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio A parte che sembra un quattordicenne Ma Questi erano gli unici pantaloni lunghi puliti che avevo Scusa non mettiti in posa 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 Anche a me ha presiduto il video oggi Ragazzi Ragazzi Guardate sono vestiti recentemente Mi ha ispirato una persona No ragazzi Cioè Che fighe Non ho parole Non ho veramente parole Comunque quando si arriva il sushi Do sta Ciao Ciao Siamo in una sala bellissima dove mangiamo cose buonissime E ci stanno preparando il tatami Io non posso mangiare il sushi lo sai Io ho caldo Che è successo? Perché non può mangiare il sushi? Cioè c'è una reazione allergica Ah me l'hai detto Fai vedere la foto Mettiamo la foto qua No no ragazzi Ti immagini Cioè l'hai detto No No C'è lei No Ragazzi Aiuto Sincin Sincin Muriel Abbiamo brindato E se tutto va bene Usciti da qui Avrò un altro specchiato in meno Ragazzi è arrivato il cibo L'hanno messo già a mangiare Ragazzi purtroppo Mi sono dimenticata di fare il vlog Però stiamo tutti mangiando E facendo pure anche i video Con Muriel Ma quante robe è davanti Simone? Ma che hai dato lo schermo? Ma non troppo davanti Non troppo davanti Non troppo davanti Non troppo davanti No No Stai anche mangiando lo schermo È incredibile Gli occhi di riso Gli occhi di riso Gli occhi di riso Gli occhi di riso Perché non ho preso gli occhi di riso? E che esame lo chiede? Mannaggia Raga Guardate chi c'è Oh ma questo qua è uno scoop Questa è una sculicola Ragazzi noi abbiamo deciso che andiamo a dormire Che forza Guarda che cucciole Siamo stanche Che ne sono? Sono le 4.20 di nuovo Che facciamo fino alle 4.20? Ma io ma che ne so? Ma che ne so? Io non capisco come arrivo Perché parliamo troppo Parliamo troppo raga Ci siamo divertite questa sera Sì ho pure mandato molto di sushi Mamma mia molto ti odio No però era buono anche il risottino Con le verdure e l'uovo Vedi ti abbiamo convertita? Però volevo il sushi Mi è piaciuto anche se non mi avete consigliato Perché non l'avete avuto il tempo Mi è piaciuta Mi è andata a vedere gli altri vlog per piacere Sì per piacere Sembra una suora aspetta Per favore Se noi vi salutiamo Adesso ci andiamo a struccare Cioè noi perché Busce No Ma che schifo Non ce la può fare E niente Se questo vi è piaciuto Mettete un pollice in su Iscrivetevi al canale Iscrivetevi a Busce E a tutti quelli Che mi conoscono Buonanotte Ci vediamo domani Noi vi facciamo i nostri social qui sopra Sì vi facciamo i nostri social qui sopra Sono il nostro di Federica No O il ciuchino O la smetti Ai Ti ho fatto male da sola? No Va bene Ciao VVB La smetti di leccarmi La smetti Non ti puoi spostare Non ti puoi morire Che bello il mio brufolo Carruccio Come lo chiamiamo? Antonio Ma perché so sporca? Ma che è? Dove sei sporca? Ma non è vero? Qua sembra che so sporca È l'ombra Che schifo Ma di cosa? Sì mi sa che sei sporca veramente Ma so sporca? Sì No Vabbè mi sta facendo mele la mano Mi saluto Mele la mano Male? E tu mele Pere Lampone